Andre prima di un incrocio fermati Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questa è l'opera Questa va? a me non mi va riferendo davanti ii sembra che ci ho come non va e ma e ma e ma occhio oh oddio oh è lì la vista eh comunque ah scusa oddio vai 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 che ci guido dai è dritta non ci sono sassi no 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 vai te dai 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 ma io voglio dire qua guarda non stai via di più guarda è dritta occhio no 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 vai andre vai andre guarda 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 la guarda giott giott ahahahhah clicchiamo a prenderci ahahahha spetta che c**o l'hai fatto dai? dio caso di te che non ti devi fermare non ti fermare e ma eh pù ma perché si è fermato li e non... dopo andavo andiamo con l'altra da qua a posto di andare di qua che è quella là guardi la macchina no, basta e vai da va di là c'è la pista dai dai se non c'è Daniele fa un buono grande no, beh però è tonato un po' ma c'era bagnato no, quello è freeride ma dove cazzo va? Daniele, hai la catena giù no si no, hai la catena giù eee Dove vedi questo danno, sull'altro? No, questa qua. Dopo vai dove ne hai dato un altro? Dunque, boh. Io non c'è nessuna cosa... Sto meglio. Ma, stupendo. Ciao Ah 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 Sì No No Ah No Vai Sì 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 Merda Aspetta lì Aspetta dai Calma Perché ho schiacciato La gamba tra il manufrio e il corpo Aspetta Aspetta edo No dai andiamo va No no Aspetta con il mio Dai Dai Vai vai Sì ma aspetta due minuti Non è pronto dai Ma allora Ah 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 Oh Ah 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 Grazie a tutti